Avamposto Irpino, arroccato sui monti Picentini, nasconde all'ombra dei suoi boschi un patrimonio naturalistico di rara bellezza. In particolare, l'oasi Valle della Caccia, a pochi chilometri dal centro cittadino, regala al visitatore il piacere di camminare lungo sentieri ricoperti di querce e attraversati dal fiume Acqua Bianca. Proprio l'acqua è l'elemento che caratterizza questa valle impenetrabile. Durante il cammino nella riserva naturalistica, si attraversano di ponte in ponte le varie insenature di un ruscello dalle acque cristalline, sino a rimanere incantati per gli straordinari giochi di luci ed ombre della Grotta del Muschio. Ma quello che caratterizza un'escursione nell'oasi di Sienerchia è il fragore dell'acqua della cascata Acqua Bianca. Trenta metri di salto, dalle pendici di una roccia sfagliata, con poderosi alberi a farle da custodi perenni. Greta di salto, dalle pendici di una sottosità di rimanere lungo. La rimanere lungo, di rispondità e la rispondità. �